Non tolà, la polizia denuncia a due persone, romeno in possesso di chiave alterate e Grimaldelli. Agenti del commissariato di Noto hanno denunciato un 35enne residente a Santa Flavia, in provincia di Palermo, per il reato di sostituzione di persone. Lo stesso per creare un profilo in un sito di incontri ha utilizzato la foto di un'altra persona. Inoltre gli agenti hanno denunciato un romeno di 27 anni, il quale durante un controllo su strada è stato trovato in possesso di chiave alterate e Grimaldelli. Le pattuglie delle forze dell'ordine dislocate nei punti importanti della città di Lentini hanno permesso di contrarre il territorio. Agenti del commissariato, insieme agli equipaggi del reparto di prevenzione e crimine di Catania, hanno affettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito dell'operazione di polizia denominata Trinacchi. Hanno identificato 32 persone, controllato 17 veicoli e 12 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.